Ho scelto la LUIS perché è un'istituzione ambiziosa che mira a competere a livello internazionale con i migliori Atenei del mondo e per un ricercatore questa caratteristica è una caratteristica essenziale, ti dà la possibilità di porti a livello delle sfide più grandi e di interagire con persone da cui impari e da cui ricevi sempre nuovi stimoli. Ho scelto di studiare economia monetaria e finanziaria perché è un tema che ha iniziato a interessarmi quando lavoravo in Banca d'Italia. Ci sono molte domande profonde a cui non abbiamo una risposta convincente, seria. L'Accademia mi dà la possibilità di approfondire le risposte a queste domande in un modo che altrove non sarebbe possibile. La musica è sempre stata la mia passione, sin da piccolino. La magia di un pianoforte, di uno strumento che crea dal nulla questa armonia mi ha sempre affascinato. Una figura che per me è stata d'ispirazione è il mio maestro Tom Sargent, un professore che ho incontrato a Stanford tanti anni fa e che è stato uno dei principali artefici della mia formazione. Tom mi ha insegnato che bisogna sempre avere fiducia in se stessi e che l'ingrediente più importante per il successo è l'impegno.